ci sono sono connesso ci sei anche tu beh spero proprio di sì io sono natalino saldrino il primo assistente di babbo natale il natale si sta avvicinando e abbiamo una sorpresa per voi quale il calendario dell'avvento interattivo ti starei chiedendo che cos'è è un'esperienza originale magica mai fatta prima dal primo dicembre fino alla vigilia potremo giocare scambiarci sorrisi ballare cantare cucinare leggere letterine insomma vivere natale a 360 gradi ebbene sì potrete parlare anche con babbo natale sì ci sarà anche lui 24 puntate dove per la prima volta noi entreremo in casa vostra e voi entrerete in casa nostra ma ognuno stando a casa propria insomma una magia e tutto questo dove in diretta sulla piattaforma zoom proprio come una videochiamata non vediamo l'ora di conoscerti a presto vediamo l'ora! Grazie a tutti.